Cari amici, alla magione che il buon Dio vi volle dar, con quest'umile canzone consentitemi inneggiare. Qui vediamo riunite le virtù che più ammiriamo. La bellezza di Afrodite e l'industria di Vulcani. Sia la vostra vita lieta, sia serena d'ora in poi. Te lo adoro il poeta che oggi è sultato in mezzo a voi. Bravi. Questo riene piccante, non c'è di meglio che il nostro Afrodite, bisogna metterlo. D'accordo, ma se mi permette non vorrei tornare al discorso di prima. La nostra città deve osservarsi indipendente, costi quello che costi. La sola unione doganale con gli altri stati tedeschi sarebbe una limitazione della nostra sovranità. Pardon, Capri, ma la strada dell'avvenire si porta a un'unione sempre più stritta con Hamburgo e gli altri stati fratelli. Anche in questo sono d'accordo con mio figlio. La mia opinione resta ferma. Su, su, non siamo il consiglio comunale, amici. Piuttosto vorrei raccontarvi un pantarello che mi è successo durante il mio ultimo soggiorno. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Grazie. È stato molto bene. La te. E anche questa altra giornata. Ma per lo scusa. Vabbè Eddie Gotthold Il mio amato primogenito Tieni, leggimela tu Io non ho voglia Padre mio Neanche la mia seconda lettera ho avuto risposta E devo dirle che Codeste è un atteggiamento anticristiano Di cui ella dovrà rendere conto a Dio Che zezza Quando seguendo l'impulso del mio cuore Ho sposato la donna che mi rende felice E ho offeso, aprendo un negozio La sua smisurata superbia Lei ha ridotto i miei diritti Al nostro patrimonio di famiglia A una dote di centomila marchi E in caso di sua morte Ad altri centomila marchi di eredità E anche troppo Ma ora venga a sapere che lei ha acquistato Un palazzo per altri centomila marchi Ebbene, conscio dei miei diritti Di fronte a Dio Pretendo un terzo della somma Dalla spesa Per Codesta casa E mi risentro A sé, a sé, basta, basta Non voglio sentire altro Bella Bella questa Pia avidità di denaro Tu? Che cosa mi consigli, Gianni? Io? Io non so cosa rispondere, padre mio La mia situazione è difficile come fratellastro Ma ciò che sei Devi rendere conto a me Non accorto Dei tuoi consigli Certo che come figlio e come cristiano Io vorrei consigliarvi Di far passi Di accontentare Cristianesi Idealismi Sai, Gian E non è questo che voglio sapere da te Siamo Siamo uomini Di affari O Siamo dei poeti Va bene Come socio della ditta Io devo dirvi Che cedere è pericoloso Non tanto adesso Per Quei 33.333 Marchi Che Lotto a pretendere Quanto per il fatto Che si crea un precedente Anche per il giorno Anche per il giorno Della mia morte Giustissimo Del resto Io le l'ho cantata a Chiara Al suo tempo Gotthold, figlio mio Gli ho detto Tu ti sposi Mademoiselle Stewing E apri il tuo negozio Bene Io non faccio scandali Ma fra noi è finita Centomila marchi Adesso Centomila Alla mia morte E Ah sì Lui non ha protestato E dunque adesso Stia zitto E non faccia altre scene È triste Ma io credo che per il bene della ditta Sia la soluzione più giusta Ecco E allora basta Non parliamone più Non parliamone più Buonanotte Jeanne E non prendetela C'è la vie C'è la vie C'è la vie C'è la vie Aggi 14 aprile 1838 Alle sei del mattino La mia cara consorte Elisabeth Bundabruck Nata a Kruger Ha dato felicemente alla luce Una bambina Che riceverà nel santo battesimo Il nome di Clara Ho intestato Alla mia ultima nata Una polizza di 150 talleri Conduci la tua, signore Sulle tue vie Oggi 23 aprile 1841 Il mio dilettissimo padre Johann Bundabruck È trapassato nel sogno Posse egli riposare in te, o signore 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 Il mio dilettissimo padre Posse egli riposare in te, o signore Posse egli riposare in te, o signore Sa memoria Sa memoria Sa memoria Delle granaglie I dazzi Sai il nome E la stazia di ogni nave È un ragazzo quadrato Forse così è anche Cristian Cristian È una testa matta Ma ha i suoi meriti anche lui Come intelligenza L'intelligenza di una testa matta Può essere rovinosa Quella ragazza mi preoccupa, Posse Mi preoccupa seriamente Ma che cosa c'è stato? Ha combinato qualcosa di grosso? Abbiamo fatto male a farlo andare a teatro con questo amico Oh, ma davano il Guglielmo Teddy Schiller E lui ormai ha 15 anni Ma non discuti il dramma, Posse Benché In ogni forma di spettacolo, più o meno Massi Vada per il Guglielmo Teddy Allora? Allora, allora È troppo che Cristian si è comportato come un Un piccolo dissoluto E cosa ha fatto? Durante l'intervallo È corso dal fioraglio di rimpetto al teatro E spendendo un marco e otto scellini Ha acquistato un mazzo di rose Che poi ha avuto la sfrontatezza di consegnare in camerino A una Giovane attrice Tra parentesi una donna che ha Una notoria relazione con un damerino della città Un... Un... Un suittier Dimmi tu, Bezzi Dimmi tu No, no, scusami No, indubbiamente è grave Oh sì, è molto grave Si manifesta una brutta tendenza, Bezzi Te lo dico io Una brutta tendenza Un po' più di severità E molta fiducia in Dio Questo è il rimedio Senza dubbio Ah, già Hai deciso qualcosa circa Anton? No Perché... Ma io gli ho quasi dato la mia promessa che l'avremmo assunto No, Bezzi Mi dispiace dirti di no Ma non è il momento per noi di prendere un oveste Ah, già Allaio Ma con una casa grande come la nostra Non può Ma non può assolutamente badare ogni cosa con due cameriere soltanto Io non capisco nemmeno il motivo Dalla morte del babbo Non diamo feste Riserviamo pochissima gente No, beh, di visita ne riceviamo non poche E poi c'è il disordine che fanno i bambini I salari sono così modesti Ma si accumulano, Bezzi Si accumulano Bezzi, non so se tu sei al corrente Della nostra situazione finanziaria Ma no, veramente Siamo poveri? Poveri no, grazie a Dio Ma vedi Bezzi Qualche anno fa Mio padre possedeva esattamente in cifratonda la bellezza di 900.000 marchi Terreni e ditta esclusa Ma dunque vedi Alla morte di papà furono pagati 100.000 marchi a Gottov, mio fratellastro Qualche anno prima per l'acquisto di questa casa furono spesi 100.000 marchi Lasci di vari enti di beneficenza dopo la morte del babbo Le tasse di successione Ci furono sì, dei guadagni Ma anche delle perdite E la situazione attuale? Siamo sui 520.000 marchi Non sono pochi Per di più poi il giorno che mio padre No, Bezzi Su questo io non ci conterei molto A parte il fatto che io auguro a tuo padre lunga vita Vedi Bezzi Scusami se io ti parlo sinceramente Ma i tuoi genitori Io sono molto contento per loro Certo è che non Non si fanno mancare niente Fanno una vita da gran signori Conforme del resto Alla loro posizione Alla loro rango Non so quanto Al loro patrimonio E poi Tuo fratello Iusto Scusa se te lo dico Mi piace divertirsi È un suite E come uomo d'affari È un po' troppo spensierato Tu sai che tuo padre È dovuto intervenire varie volte Con somme ingenti per evitare un disastro Bene Mi rendo conto Forse sarà meglio Fare a meno del domestico Domani chiamerò Anton E vedremo di mettersi d'accordo Chi sta alla piccola Toni In questo momento La piccola Toni Saranno passati i grilli Ora che si trova in collegio No? Eh sì È un po' vivace Un po' ribelle Anche quella storia Dei bigliettini Trasmessi a quel A quello studente Di ginnasio Dopo essere stato a passeggio Con lui fuori le mura Ma ormai non avrà più occasione del genere Povera piccola Povera piccola No voglio dire che Povera piccola